Presidente Garbellotto, circa un mese fa si è conclusa la stagione del decennale dell'Imoco Volley che ha ulteriormente arricchito la bacheca del club con uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa oltre che, cosa da non trascurare assolutamente, dall'ingresso nel Guinness dei primati grazie alle 76 vittorie consecutive Le chiediamo un bilancio non solo dell'ultima stagione ma anche di questo primo decennio di vita dell'Imoco Volley Sono stati 10 anni fantastici e 10 anni che sono volati, 10 anni per cui mi sento di ringraziare prima di tutto le famiglie Maschio e Polo per la fiducia che mi hanno dato e tutti gli sponsor a partire dal proseguo che ci stanno accompagnando abbiamo vinto molto di più di quello che ci saremmo mai aspettati perché l'abbiamo sempre detto noi siamo partiti il primo anno dove già la parola finale scudetto ci sembrava un traguardo irraggiungibile e fatalità ci siamo subito arrivati con dei play off particolarmente fortunati e poi specialmente dall'era Mazzanti-Santarelli in poi si è aperto un ciclo importante che ci ha visto vincere diversi trofei e ci ha visto far sicuramente un bilancio positivo Cosa non trascurabile? È stata un'avventura che è stata condivisa da tutto un territorio Noi siamo la Prosecco d'Occhi Moco Conegliano ma siamo una squadra di un territorio un territorio importante che ci supporta con gli sponsor appunto ma un territorio anche importante che ci dà tanta benzina che sono i nostri tifosi che vengono assemblati a Paraverde ricordiamo che noi abbiamo anche il record europeo di pubblico nella parola femminile con oltre 100.000 spettatori chiaramente nell'anno pre-covid La stagione 2021-22 sia pure tra i numerosi ostacoli creati dall'andamento delle curve pandemiche è stata quella della riapertura al 100% verso fine stagione della capienza dei palazzetti dello sport e subito al Palaverde sono tornati sold out indubbiamente un sospiro di sollievo dopo due anni estremamente difficili Ci sono stati una lunghissima attraversata nel deserto tra l'altro in due anni dove la squadra ha vinto quasi tutto e quindi è stato un peccato non condividere queste gioie con i tifosi io credo che vincere è bello ma vincere insieme ai propri tifosi è decisamente molto ma molto più bello sono contento che come abbiamo riaperto il Palaverde si sia riempito nuovamente subito lì avevamo un po' di timore sono sincero perché chiaramente la gente va riabituata a tornare al palazzetto c'è chi magari poteva avere ancora un po' timore del covid e via discorrendo però visto che in finale abbiamo fatto direttamente i due sold out e questo ci ha rincuorato molto e si è rivisto veramente un entusiasmo come quello che mancava da due anni Nel congedarsi da Conegliano dopo tre stagioni la fuoriclasse Paola Egonu ha detto qui sono stata amata come in pochi altri posti e simili parole sono arrivate anche da molte altre pantere al momento dell'addio o dell'arrivederci ai colori giallo-blu ecco cosa rende l'ambiente dell'Imoco Volley così speciale per chi ci lavora? Io credo che sia un insieme di cose sicuramente avere l'Imoco Village dove le ragazze vivono tutte insieme e dove diremmo sono seguite in maniera diversa quello credo sia un grande stimolo perché lì se c'è bisogno di fare fisioterapia o recupero muscolare per qualche atleta c'è la palestra, c'è l'Imoco Lab e quindi sono seguite in maniera diremmo più accorta credo che poi l'ambiente per impostare un ambiente dove le ragazze si trovino bene serve chiaramente un grande allenatore come Daniele con un grande staff e un capitano che sta tenendo la magma di tutti quanti non dimentichiamo che la nostra senatrice Monica De Gennaro è arrivata a nove stagioni che è sicuramente un po' la chioccia di tutte quante Le preoccupazioni a livello globale non mancano tra una pandemia che riserva continui colpi di coda una guerra ai confini orientali dell'Europa e ora anche il problema della siccità che messaggio lanciate ai vostri sponsor, recentemente tra l'altro ne sono arrivati di nuovi in vista della stagione agonistica alle porte? Io credo che noi abbiamo il dovere dell'ultimismo e il dovere di andare avanti io ho 22 anni che lavoro e 10 anni che facciamo la pallavolo con Pietro Maschio non ho mai visto il mondo fermarsi neanche durante la pandemia anzi io ho inaugurato questo stabilimento durante la pandemia e sono contento di averlo fatto credo che ci aspetterà una bella stagione, una bella annata e credo che anche distrarsi a guardare le nostre pantalelle la domenica ci aiuti ad affrontare poi la settimana con uno spirito diverso A breve partirà la campagna abbonamenti 2022-23 Qual è invece il messaggio che lanciate ai vostri tifosi? Proprio venerdì facciamo la riunione per la campagna abbonamenti insieme a Pietro Maschio, a Martina e a Leonardo per vedere come uscire nella campagna abbonamenti che sarà una campagna che terrà conto di chi l'anno scorso ha voluto sottoscrivere lo stesso l'abbonamento nonostante tutte le difficoltà del caso sarà una campagna abbonamenti con un occhio particolare ai nostri tifosi più storici e qua mi leggo anche un po' al discorso degli sponsor di prima gli sponsor di prima vanno ringraziati non solamente perché investono nello sport e perché investono quindi anche nei giovani noi abbiamo quasi 2000 ragazzini nei settori giovanili ma perché fanno sognare un territorio intero e questo è testimoniato dal fatto di tutto il pubblico che ci viene a seguire Grazie Presidente Garbellotto grazie per l'ospitalità in bocca al lupo alla Prosecco d'Occhi Moco Volley